Previsioni che per sabato non dicono tanto bene. Ecco Mario D'Arcadia che prende posto in questo momento e lo speramento quindi si completa. Tutto pronto? Partite! Ecco, ti voglio rispetto per tutto. Dall'esterno Mario D'Arcadia che comunque ha colto una buona partenza scendendo verso lo speccato. A seconda posta Master Giura, la grigia che precede Only4Fun, poi ancora Redhawk che tiene a largo Lady Fjordalice a chiudere il gruppetto che c'è Supernoti. Mario D'Arcadia in vantaggio avendo preso la corda, a seconda posta Master Giura, le due prendono un paio di lunghezza di margine su Only4Fun che anticipa bruscamente a largo Redhawk. Quella giuba fuzzi a Lady Fjordalice che si avvicina e ancora c'è anche Supernoti con l'altra giuba azzurra e il cap giallo. E sempre Mario D'Arcadia in vantaggio, a suo fianco Master Giura, in terza corsia c'è Only4Fun, Lady Fjordalice che si fa sotto, poi Supernoti a chiudere il gruppo Redhawk. Si accelera adesso con la spinta all'argo di Only4Fun che sopra avanza Master Giura dall'attacco di Mario D'Arcadia. Only4Fun e Mario D'Arcadia una terza lotta, al terzo avanza Lady Fjordalice, di fuori Only4Fun che lo giude in evidenza su Mario D'Arcadia. All'argo Lady Fjordalice nell'ultimo tratto Only4Fun che vince davanti a Lady Fjordalice.